Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video di Neve Cosmetics Oggi con me ci sarà Rossella Su Rossella ho pensato di creare un make up ispirato un po' alla primavera Quindi qualcosa di fresco Vedrete sicuramente il nostro nuovo Cream to Serum Foundation E perché no iniziamo a dare via a queste labbra super colorate I prodotti che ho utilizzato per Rossella sono Cream to Serum Foundation nella colorazione Medium Light Ristretto Concealer nella colorazione Medium Alabaster Touch, Glass Glow, Velvet Bronze Manga Brows nella colorazione Arancione Mineral Blush nella colorazione Daily Ombretti Minerali nella colorazione Naughty Hill e Tobacco Arcobaleno nella colorazione Bon Bon Pastello Occhi nella colorazione Fili Cudi Irrinunciabile Black Bubble E infine Sugar Matte nella colorazione Cannolo Ecco la nostra meravigliosa modella Ve la faccio vedere in tutta la sua naturalezza del prima E poi voilà ecco il dopo a fine trucco Inizio ad uniformare l'incarnato con il nostro Cream to Serum Foundation Prima lo agito bene mi raccomando E poi lo vado ad applicare un pochino su il pennello Red Amplify Come potete vedere faccio qualche puntino per andare a distribuire in maniera uniforma il fondotinta E poi inizio a lavorarlo Sapete che questo pennello è uno dei miei pennelli preferiti per lavorare appunto il fondotinta Perché mi permette di stendere bene il prodotto su tutto il viso Andando anche a lavorare nella zona preoculare Questo fondotinta rimane fresco e luminoso e per una pelle matura è veramente l'ideale Adesso passo al ristretto concealer nella colorazione Medium Lo applico nella zona del contorno occhi Quella dove normalmente si ha un pochino più di occhiaie E inizio a lavorarlo per bene con il pennello Orange Concealer Presso e sfumo il prodotto Ma mi aiuto anche con un polpastrello Per far sì che il prodotto non si incastri nelle pieghette Applico un pochino di ristretto concealer anche nelle zone un po' più rosse E effettuo gli stessi passaggi Quindi prima sfumo con l'Orange Concealer E poi presso bene il prodotto e lo sfumo anche con il polpastrello Setto tutto quanto con l'Alabaster Touch E aiutata dal Mint Tapered lo vado a stendere su tutto il viso Anche nella zona pericolare Perché vi ricordo che è una cipria con effetto naturale E' giunto il momento delle sopracciglia Inizio prima a pettinare i peletti verso l'alto Dopodiché inizio a disegnare le sopracciglia di Rossella Che sono molto sottili Con prima la punta più chiara E poi vado a definire per creare tridimensionalità Con la punta più scura Con il Crystal Shader prelevo Bonbon E con Bonbon inizio a preparare tutta la palpebra mobile Ed inizio a tonalizzarla Vado ad applicare il prodotto Prima pressandolo bene E poi sfumandolo verso l'esterno E' il momento di utilizzare Filicudi Un duo chrome nero con satinature indaco La applico in fraccigliare Quindi vuol dire che vado a colorare bene 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 tra le ciglia Dopodiché munita di yellow liner Inizio a sfumare la matita occhi La sfumo verso l'esterno E anche verso l'interno Quasi come se volessi creare una sorta di eyeliner Guardate come una semplice riga Va a intensificare e a mettere in evidenza gli occhi Adesso vado ad applicare il primo ombretto minerale Che è Naughty Hill Lo riapplico con il pennello di prima E lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile Guardate che meraviglia Naughty Hill E' un rosa salmone chiaro dai riflessi rosati Come secondo ombretto minerale abbiamo Tobacco Un marrone chiaro in base verde con riflessi color rosa corallo Che vado ad applicare sempre con lo yellow liner Lui è proprio il prodotto che mi serve per andare a fermare la pastella occhi Filicudi Vedete che io vado a ripassare letteralmente dove ho sfumato prima appunto la nostra pastella occhi Per intensificare lo sguardo però Tobacco lo sfumo anche nella rimacigliare inferiore Piccoli trattini facendo attenzione a non mandare il pigmento all'interno dell'occhio Perché potrebbe dare fastidio Lo sfumo e lo ricongiungo alla linea che abbiamo fatto nella rimacigliare superiore Immancabile e immancabilmente il nostro meraviglioso black bubble Lo vado a stendere sulle ciglia superiori Lo lavoro molto bene quindi a zig zag e tirando verso l'esterno Guardate la differenza degli occhi di Rossella con uno con il mascara e l'altro senza E poi mi concentro anche nelle ciglia inferiori Guardate che meraviglia la nostra Rossella E adesso è il turno della Velvet Bronze Immancabile, voi sapete che io amo questo prodotto Molto semplice, molto pratico Ed è perfetto per andare a fare un pochino di contouring e a scaldare il volto Io uso per applicarlo il pennello blue contour Lo applico nella zona zigomatica quasi come se fosse anche un pochino una sorta di blush Ed ecco qui, guardate che pelle Rossella Dopodiché decido ancora di usare un pochino di blush Facendo questo effetto guanciotta un po' imbarazzata Con il blush minerale nella colorazione Daily Vedete che proprio lo sto tamponando sulle guance e sulla zona zigomatica In ultimo, immancabile, perché secondo me è stupenda per questo trucco La Glass Glow Cipria illuminante con i suoi riflessi dorati e rosati Che vado a stendere con il pennello Sky Corrector Lo vado a stendere con lo Sky Corrector nella zona zigomatica Mentre con l'azur shadow vicino al dotto lacrimale Doniamo un tocco di colore a questa meravigliosa modella Con il rossetto de Serra Levre Nella colorazione Cannolo Cannolo fa parte degli sugar matte Quindi un colore intenso ma un pochino più opaco E con questo effetto davvero un po' sugar sulle labbra Lo applico direttamente con il green detail Quindi vado a disegnare il contorno labbra proprio con il pennello E poi lo vado a riempire finché ho la coprenza che mi interessa L'obiettivo è un colore pieno, vivace e brillante Ed ecco qui il trucco finito della nostra rossella Guardate come andiamo a risaltare il suo incarnato I suoi occhi, le sue labbra Stupenda Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito se avete domande o dubbi scriveteceli Metteteceli io Come al solito vi mando un super bacione E ci vediamo al prossimo video